Allora siamo di fronte alla casa di Sganzerla, il po' sta esondando nella restara di fronte. Il po' sta esondando nella resta di fronte. Il po' sta esondando nella resta di fronte. Allora siamo sullo stradello del Tirolo, il mincio è esondato e lo stradello è già stato risucchiato all'interno della piccola golena di sinistra. Pesci? E' morto? Era vivo? Ci sono i pesci? E' morto? E' morto? E' morto? E' morto? E' morto? E' morto? E' morto?